Ciao, domani praticamente io terrò una talk sullo storytelling fotografico, analizzeremo un po' la progettazione della sequenza fotografica e farò anche fare qualche giochino a tutti i partecipanti che ci saranno domani, ma non vi svelerò di più, parleremo però di storytelling e di thing fotografico. Non sarai sola mi pare, o sbaglio, sarai invece in compagnia di qualcuno o gestirei da sola insomma questo storytelling fotografico? Lo storytelling lo gestisco da sola sì, però è un'idea organizzata da Fototopia Albidona, quindi sì ci sono dietro Oreste, Asmara e Michele. Ecco, vediamo, volevo sapere questo, però non diciamo altro, è un'anteprima quindi domani alle 5.30, presso sempre il Cleto Festival, quindi qui a Cleto, si terrà questo storytelling fotografico ottenuto proprio da te. Quindi venite, numerosi, veramente forse è un numero chiuso, qualcuno mi pare che... però se qualcuno volesse sbirciare, vedere un po' di cosa si tratta. Abbiamo già raggiunto il limite, però... Vabbè dai, cercheremo allora almeno di partecipare da lontano e vedere di cosa si tratterà. Va bene. Grazie Valentino. A voi. Grazie. 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 Grazie.